Deve fare pressioni addominali verticali e avanti chiede una partita. No, no, è una capriola. Si fa una capriola a te da un euro. Vinti pressioni. Ma si è vostra. Si fa una capriola a te da un euro. E non devi bagnarti. Ecco lì. Ecco lì. No, ti do due euro. Oh! Dai, dai, dai. Ti do altri due se ti do la peglia. No, questo. Di davanti a due euro si fa la capriola. Di davanti a due euro. Dato, una capriola. Ma, te lo spieghi! Oh, hai tirato, Luca! Oh, dai, di lo cane. Chiim wisely cara lì. Capriola e 21 euro? No, vado a ottenere tutto. Oh, oh, uno è pieno! Oh, prendimi l'ombrello che vado a firmarlo dai. Oh, oh, è lì, è lì, è lì, è lì. Lo vedi? Vai, vai, vai! vai vai mi piace carico pazzo o no no per me per l'entra e' la roma parola qui n Fai in disposta! In disposta è venuta in casa! Nella poccia! Nella poccia! Nella poccia! Nella poccia! Nella poccia! Nella poccia! Bravo!